Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Continuiamo la nostra trattazione dei piani esterni, questa settimana andiamo a parlare dei piani della legge o dei piani dell'ordine come preferite chiamarlo. Questi sono i posti dove le regole sono importanti, dove tutto ciò che è è, dove ciò che non è non può essere e fondamentalmente a seconda del tipo di persone che siete possono essere la vera rappresentazione del paradiso o possono essere la vera rappresentazione dell'inferno. Scegliete voi! L'ordine è una delle due forze primordiali dell'universo, è la seconda forza che si sia mai manifestata e emerse direttamente dal caos agli albori dell'esistenza. L'ho già detto in altri video, il vero conflitto all'interno della grande ruota non è quello del bene contro il male, quella una facezia che riguarda principalmente i mortali, il conflitto vero e proprio è quello della legge contro il caos che si contendono il dominio sulla natura stessa dell'universo. I piani della legge sono ovviamente allineati con la forza della legge e sono il luogo da cui la volontà dell'ordine si irradia all'interno della grande ruota facendo in modo che tutto sia quello che deve essere e che tutto ciò che non debba essere smetta di essere. Non sono un posto adatto ai principianti, sono probabilmente uno dei luoghi più ostili ai mortali dell'intero universo anche se nei piani dell'ordine trasmigrano tutte le anime di quei mortali che effettivamente hanno dedicato la loro vita al mantenimento delle regole della giustizia intesa come nel rispetto delle regole dei patti e tutte quelle persone che in linea generale hanno sempre cercato di fare ciò che è corretto indipendentemente dal fatto se questo sia giusto o se sia sbagliato. Potrebbero esserci dei supplicanti anche relativamente buoni ma anche i buoni nei piani dell'ordine sono per loro natura estremamente severi. Piano supremo della legge dove nulla accade per caso e ogni cosa ha il suo posto l'utopia meccanica di meccanus è un luogo fatto di gigantesche ruote dentate ingranaggi alcune grandi come veri e propri continenti che ruotano tra di loro in un macchinario che si estende all'infinito impegnato in un calcolo così complesso sulla natura fondamentale della legge che probabilmente va al di là della capacità di comprendere anche degli stessi dei della legge che per la maggior parte risiedono qui. Meccanus non ha un vero e proprio ecosistema perché è fatto principalmente di ingranaggi metallici. I suoi principali abitanti sono gli inevitabili che qua vengono assemblati per poi essere mandati a portare la legge in tutto il multiverso e i modron esseri meccanici dalle forme geometriche che vivono impegnati in costanti attività collettive agli ordini del loro dio primus tutto questo è però disturbato anche se disturbato con una precisa efficienza militare dagli eserciti formian che avanzano costantemente per conquistare sempre nuovo spazio fondare sempre nuove colonie e in qua anche i formian hanno la loro massima espansione perché possono andare avanti con il loro impeto imperialista all'infinito data la natura del piano. Meccanus non ha dei sottostrati o delle divisioni planari anche se ogni singola ruota fondamentalmente rappresenta un suo insieme di per sé ogni ruota ha una sua gravità centrata sulla parte piatta della ruota quindi camminando su una delle ruote dentate è possibile vedere la gente che cammina perpendicolarmente sulla superficie di quella a fianco ammettendo di essere vicini ai bordi perché queste ruote si estendono per migliaia di chilometri e sopra le ruote sorgono le varie città dei modron le colonie dei forman le fortezze degli inevitabili sorgono anche le fortezze dell'illuminata dottrina dove studiosi della legge da tutto il multiverso si riuniscono per elencare e classificare tutte le leggi restando indisturbati perché meccanus non ha neanche fenomeni atmosferici non ha né luoghi troppo caldi né luoghi troppo freddi meccanus esiste in un eterno presente immutabile perché questa è la volontà della legge e nelle fortezze dell'illuminata dottrina è possibile trovare ogni tipo possibile di estensione della legge da raccolte vere e proprie di codici penali e regolamenti a opere artistiche musica che segue le sue composizioni numeriche ma quello che non è possibile trovare è la passione per queste cose tutto su meccanus avviene in maniera precisa matematica e distaccata perché neanche le passioni mortali possono disturbare la perfezione dell'ordine l'unico modo che i mortali hanno per capire lo scorre del tempo in questo immutabile presente dell'ordine è il fatto che su meccanus per esattamente 12 ore al giorno il nulla infinito in cui gli ingranaggi sono immersi emette una luce bianca opalescente e per esattamente 12 ore rimane buio immergendo il tutto nella notte alcuni degli abitanti di meccanus si regolano su questo per avere dei cicli di lavoro cose simili per altri invece data la loro natura meccanica è del tutto indifferente procedono infinitamente nelle loro attività senza mai interrompere senza mai stancarsi dove la perfezione la purezza della legge vengono stemperati dal bene si trovano i pacifici regni di arcadia i pacifici regni d'arcadia sono una terra di perfezione dove tutti i governi sono giusti e le leggi esistono per il bene comune dove città di case bianche vengono costruite secondo forme geometriche dove ruscelli perfettamente limpidi scorrono dritti attraverso piani interi di campi rasati all'inglese e dove piante selvatiche dal fusto metallico crescono in filari perfettamente ordinati e danno frutti nutrienti esattamente nella stagione in cui è previsto che li diano che a seconda dei vostri gusti personali potrebbe essere un posto paradisiaco o potrebbe essere la vera e propria natura dell'inferno visibile da ogni punto del piano vi è un'altissima catena montuosa di cui pendi non vengono mai erosi dal tempo dalle intemperie che è considerato il centro del piano in cima alla catena montuosa c'è una sfera che ruota sempre con un'orbita perfettamente circolare e sempre allo stesso tempo in quanto manifestazione fisica dell'ordine che per metà proietta luce per metà proietta buio e questo segna anche l'alternanza del giorno e della notte sul piano mentre metà del piano viene illuminato a giorno l'altra metà sarà durante la notte non esistono particolari fenomeni atmosferici e questo è l'unico modo per scandire il tempo ovviamente il passaggio del tempo è perfettamente regolare nei pacifici regni di arcadia arcadia è un piano di perfezione e collaborazione in realtà però non è un luogo così celestiale paradisiaco come può sembrare se di per sé i regni di arcadia sono effettivamente il migliore dei mondi possibili dove tutto è perfetto e tutto ciò che il piano crea e produce è la massima aspirazione per quell'oggetto questo non è esattamente corretto per i suoi abitanti anzi gli abitanti di arcadia non sono un popolo benevolo guidato alla legge sono un popolo legale tendente al benevolo gli abitanti di arcadia sanno di vivere nel migliore dei mondi possibili si considerano le migliori persone possibili e hanno scarsissima tolleranza per chiunque non faccia le cose esattamente come loro vogliono che vengano fatti questo vuol dire che se i regni sono particolarmente pacifici tra di loro e vive una perfetta armonia di scambi economici equi questo non vale per i viaggiatori planari che sono spesso ostracizzati o semplicemente ammazzati se non si attengono alla perfezione alle istruzioni che gli vengono dati agli abitanti che ovviamente essendo gli abitanti dei pacifici regni di arcadia partono dal presupposto di essere sempre indiscriminatamente nel giusto e non sono gli abitanti di monte celestia che danno anche importanza all'individualità il campo di battaglia infernale dell'acheronte è il luogo dove la legge viene contaminata dal male e dove ciò che deve essere è per controllare sottomettere e favorire i più forti l'acheronte è formato da vari strati ognuno dei quali pieno di enormi solidi geometrici dall'apparenza metallica grandi come veri e propri pianeti in alcuni casi che ruotano tra i loro alle volte urtandosi in maniera catastrofica e cui su ogni faccia dei cubi infiniti eserciti si allenano e combattono costantemente per la supremazia gli uni con gli altri è un luogo in cui ci sono veramente molti soldati ma veramente pochi leader militari perché solo le menti più ordinate e disciplinate riescono effettivamente a portare a segno operazioni militari nella natura costantemente mutabile dei campi di battaglia dell'acheronte l'interno dei solidi è riempito di cunicoli, gallerie, grotte in cui crescono varie varietà di funghi commestibili e anche dei frutti marroni insapori ma particolarmente nutrienti che vengono costantemente raccolti dagli eserciti per sfamarsi e continuare la loro eterna battaglia i cubi e i solidi geometriche dell'acheronte fondamentalmente galleggiano in un nulla infinito anche in questo caso non ci sono né stelle né soli né altro nel cielo ma il nulla in cui galleggiano emette una radiosità che va dal parziale penombra a giornata piovosa per cui non è mai né effettivamente troppo chiaro né mai troppo buio perché gli eserciti debbano smettere di combattere varie facce dei cubi sono soggette a varie fenomeni meteorologici si può dire che il clima dell'acheronte è costantemente cupo e uggioso ma ci sono anche momenti in cui effettivamente non sta piovendo anche se sono decisamente rari e momenti in cui ci sono proprio vere e proprie piogge torrenziali che spazzano la superficie dei cubi annegando tutti i soldati e momenti in cui ci sono forti nevicate e forti grandinate gli eserciti quindi sono costretti a costruire fortificazioni per difendersi dal piano stesso e tutto questo ovviamente viene fatto nella maniera più brutalmente efficiente possibile anche perché i bisogni e i diritti del singolo come concetto non hanno senso sull'acheronte perché qui è dove la legge prevarica anche la natura del singolo perché è contaminata dal male e se quanto detto finora non vi ha ancora fatto passare la voglia di girare la grande ruota settimana prossima, no, tra due settimane probabilmente andremo a vedere i piani del caos che sono lo specchio di quello che abbiamo detto in questo video ovviamente come sempre se avete domande, dubbi, perplessità scrivetelo nei commenti qui sotto so che con l'uscita della quinta edizione hanno fatto dei cambiamenti anche la natura dei piani la quinta edizione è quella che io conosco peggio quindi se avete qualcosa da aggiungere non fatevi problemi come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il Master Ka e noi ci vediamo nel prossimo video ciao